Parlando di olivi, qual è l'olivo? L'80% moraiolo, 7000 piante. E' interessante, stiamo vedendo anche delle immagini di un altro periodo stagionale che ci avete fornito con questi bellissimi colori, con questo ambiente. Allora, avete in totale quante piante? Di vigna sono sui 16500 ceppi divisi in 40 ettari. Ogni ettaro abbiamo un sesto di impianto di 2,40 m per un metro che riesce a portare 4166 ceppi. Mamma mia, i numeri, i numeri sono una cosa che li giochiamo all'otto. L'elemento credo passione, perché qui quando arrivarono i Ferragamo, prima iniziarono, compresero la tipologia di terreni, quali erano le caratteristiche. Analizzando i terreni si è potuto capire le varie caratteristiche dei vari terreni per poi impiantare, secondo le caratteristiche, le varie varietà di vigne. Ecco, quindi negli anni 90 fu fatto questo riequesto di impianti. Ecco, le vigne, l'ideale della pianta, i ceppi, che sono le radici lì per terra, che sono? Allora, le radici, noi abbiamo il 30% sangiovese, merlot, 30% di merlot, un 20% di cabernet, che tra l'altro è questo vigneto, un cabernet, e il restante 20% sirà e petit verdot. Ci sono delle caratteristiche che vengono fuori, poi che si riportano anche nel vino. Come esperto più tecnico, con chi si è meglio amalgamato di queste piante con la zona? Perché io credo che c'è anche una simbiosi emotiva, o sbaglio? Senz'altro, il sangiovese che è il vitigno autocnoto della zona, è il fiore, il cuore dell'azienda, è il fiore all'occhiello, eccomi sfuggire il termine, il sangiovese. E adesso siamo entrati nel Santa Santorum del Borro, perché io credo che ci sia anche ritualità qui dentro, Salvatore. Sì, sicuramente molta vitalità nella nostra cantina, qui vediamo in totale circa 800 barrique, dove il nostro vino riposa, fa il suo periodo di invecchiamento, per un periodo dai 12 ai 18 mesi, secondo il prodotto. Il nostro esperto ci ha detto che lui è legato di più al sangiovese, però so che voi avete fatto un tipo di vino che ha la presenza dei vitigni internazionali, forse nella sua anima più profonda. Sì, il vino di punta, diciamo il Grand Cru, è il Borro Toscana, che è un uvaggio di Merlot, Cabernet, Syrah e Petit Verdot. Questo è una selezione di vitigni, non a caso, ma in seguito a uno studio delle varie tipologie dei terreni. Sappiamo che appunto il Valdarno era un enorme lago e quindi come tale ha dei terreni diversi, che si prestano meglio secondo le varie tipologie. Perché poi voi avete i vari terreni dislocati, non sono tutti in un unico appezzamento, ma hanno anche tipologie diverse proprio di sostanze nutritive per la vita. Esatto, sì, esattamente quello che diceva Salvatore, che i terreni cambiano a seconda della zona, l'esposizione, la protezione dagli agenti atmosferici. Non sono efficientissime avere le vigne sparse in tutta la superficie, però sono molto belle. Ecco, questa cantina, questa è la parte più storica, che non era così però, è vero o no? Quando siete arrivati era tutta una storia. Molto diversa, sì, i tini erano in cemento, quindi cemento, un vecchio sistema, di come si vinificava. E poi c'erano delle botte in legno avanzate, ma non più efficienti. Le abbiamo riutilizzate come pavimenti nel restauro delle varie case. Perché abbiamo anche l'altra struttura, sempre qui, interno della cantina, la parte più moderna. Però anche lì, con l'attenzione alle temperature, anche qui la tecnologia un po' torna, mi sembra, no? Sì, oggi ci sono delle tecniche di vinificazione, quindi in primis la nostra cantina funziona tutto per flusso gravitazionale, quindi è la spinta della gravità che riempie i nostri tini, le nostre barricche. Quindi questo in primis, poi tini a temperatura controllata, sono tutti degli accorgimenti che oggi migliorano la qualità dei nostri vini, che comunque già partano, essendo in Toscana, noi storicamente partano con una qualità eccelsa dalla vigna. Cioè, il vino si fa in vigna, poi in cantina si può sciupare, qualche enologo dice o no? Sicuramente. Quanto è contato il vostro gusto per decidere il tipo di vino da fare? Beh, io credo molto, devo dire, incoraggiato da mio figlio che ha molta passione, credo che il nostro vino è stato, il nostro gusto è stato determinante per il vino. Posso prendere i calici? La bottiglia la prendi tu, la tieni tu. Questo è una delle due, no? Questo è il borro in pratica. Questo è il borro, il borro Toscana, abbiamo appunto questo, il Grand Cru del Borro con lo stesso nome dell'azienda, proprio perché rappresenta meglio la varietà dei terreni e quindi la sua diversità nel prodotto e il suo, diciamo, meritage. Il borro 2007, sicuramente una grande annata. Quando nel 1999 avete fatto il primo vino, che era pronto lì, la prima, è stata la soddisfazione come la nascita di qualcosa? Voi siete abituati a vedere nascere, no? Credo anche i progetti. Certo, è stata la realizzazione di un sogno che si materializzava e oggi sono dieci anni che produciamo vino in questa tena. Quante bottiglie erano nella prima, vi ricordate? Mi hanno detto sulle 6... no, non lo so. 6.734 bottiglie. 6.734. Oggi quante sono le bottiglie circa? No, beh, adesso produciamo circa 150.000 bottiglie in quattro etichette, tre rossi e un bianco, uno chardonnay in purezza. Quindi ecco, sono cambiati i numeri, è cambiato diverso l'impegno. Dov'è che è più apprezzato il vino vostro? Ma devo dire, per fortuna, un po' in tutto il mondo. Abbiamo un terzo, siamo ben equilibrati. Un terzo in America, nel Nord America, un terzo in Europa e un terzo in Asia. Quindi, devo dire, c'è un buon equilibrio. Forse i giapponesi lo apprezzano in particolar modo. È vero che sono gli italiani più difficili da catturare quando nasce un nuovo vino? O è un vecchio detto che non ha concretenze? Beh, sono più esigenti e questo stimola nel cercare sempre di affinare il prodotto e renderlo gradevole per il consumatore. Allora, mettiamolo dentro i bicchieri. Grazie, grazie. A me prima. Sono onoratissimo così. Almeno ci... Notate come ha impugnato la bottiglia da... Che ha fatto il corso anche adesso a Mileni? Sì. Ha impugnato la bottiglia che si vedesse l'etichetta, con l'attenzione, al toccare. No, sono finezze che sovente non tutti hanno, no? Invece il rispetto per questa cosa, che io credo è viva, deve essere dato a ogni aspetto. Assolutamente. Penso di sì. Questo è non solo un gran prodotto, ma c'è anche molta poesia dietro, no? Ah, certo. Alla vostra! Benvenuti a voi. Il borro. Siamo in Toscana, nell'area del Valdarno, credo uno dei posti più belli al mondo per l'importanza che ha l'ambiente, l'architettura. Stiamo godendo di un paesino che ha origini medievali e lo raccontiamo con i due attuali titolari di questo maniero. Voi sarete i principi, cioè i nobili di questo maniero, con Ferruccio e Salvatore Ferragamo. Ho detto il borro paradiso, me lo confermate, insomma anche da qua si vedeva questa cosa medievale che usciva fuori, no? Sì, ce lo guardiamo e ce lo fotografiamo a ogni occasione. Perché cambia i colori, cambia la stagione. Cambia i colori, la stagione, è sempre angolazione. Il borro Toscana è diventato nel mondo con il vostro vino, ormai è una brand si dice per chi si occupa di marketing, perché ha ottenuto grandissimi riconoscimenti. Sì, infatti il nostro primo vino, appunto che si chiama il borro Toscana, ha ricevuto, mi sembra, 92 punti da Wine Spectator, 93 da Robert Parker, Wine Enthusiast, mi sembra, 94. Quindi sono dei punteggi importanti per una realtà nuova. La nostra prima vendemmia era il 99, quindi siamo proprio in termini di produttori. Una cosa, ma il nome Toscana si vende parecchio bene? Lo chiediamo a voi che siete un po' internazionali come esperienza. È un po' come il Made in Italy, Toscana è Made in Italy, secondo me è un altro brand, quindi siamo fortunati in quello, perché dire Toscana all'estero, quando uno dice italiano ci guardano, quando dice Toscana... Ecco, secondo lei quali sono i valori della toscanità? Perché siamo in un'azienda agricola, ci stiamo divertendo, almeno noi, a vederla. Per lei quali sono almeno tre i valori della toscanità che funzionano e che ci sono ammirati? Beh, sono tanti, è difficile trovarne tre, però direi tre che sono il paesaggio, sicuramente fra i più belli che possiamo offrire in Italia, direi questa artigianalità che esiste a tutti i livelli, non solo nell'agricoltura ma anche nelle piccole attività e poi prodotti del vino, l'olio che escano dalla terra insieme a queste bellezze che accolgano tanti turisti e che vengano e ritornano con piacere.